Buongiorno a tutti e bentornati su Cartino Rosa, oggi siamo qui per commentare una news arrivata nelle ultime ore in questa giornata, ovvero quella dell'arrivo nel calcio femminile con una prima squadra, non solo con un settore giovanile, di Urbaino Cairo e il suo Torino Football Club. Quindi l'inserimento di una nuova società calcistica professionistica nel mondo del calcio femminile italiano, una di quelle che ancora mancava e che è importante alla fine che ci siano in questo momento per le granate a Torino cioè il Torino Woman che però è una società totalmente staccata da quella di Urbaino Cairo che adesso invece è intenzionato di inserirsi nel calcio femminile partendo dalla Serie C femminile con l'obiettivo di arrivare il prima possibile in cadetteria come minimo perché poi comunque un club professionistico come il Torino sicuramente punterà un giorno ad arrivare anche in Serie A adesso comunque i posti sono molto limitati perché la Serie A è composta solo da 12 squadre vedremo se nei prossimi anni anche con l'arrivo del professionismo per le calciatrici magari si allargherà il campionato fino a 14 ma anche 16 squadre vedremo di questo dipende ovviamente molto dalle società professionistiche come il Torino appunto che vorranno inserirsi in questo mondo e anche ovviamente dei costi di gestione di una lega professionistica perché saliranno di tanto dopo l'arrivo del professionismo quindi bisognerà vedere se si riuscirà appunto ad aumentare il numero di squadre perché serviranno poi il numero di squadre minimo che possano permettersi certi costi già adesso comunque il campionato di Serie A non ha un costo irrisori e nemmeno quello di Serie B quindi poi con l'arrivo del professionismo aumenteranno ancora per questo è importante che arrivino comunque società come quelle del Torino di Urbano Caro con magari progetti anche ambiziosi quelli di appunto diventare prima o poi una delle squadre della Serie A femminile italiana perché alla fine appunto con l'aumento dei costi non tutte le realtà in questo momento più piccole e non con dietro un caldo professionistico dietro riusciranno a reggere i costi a lungo soprattutto quindi servono società come questa finalmente è arrivato anche il Torino e chissà magari tra qualche anno finalmente vedremo anche il derby con la Juventus comunque la Juventus Woman c'è già da qualche anno dove sta continuando a vincere ininterrottamente lo Scudetto e anche altre competizioni nella nostra nazione quindi un inserimento importante poi adesso dovremo vedere quando si concretizzerà speriamo il prima possibile dovrebbe esserci appunto in occasione della prossima stagione partendo proprio dalla Serie C comunque un campionato non facile lo stiamo vedendo anche quest'anno nei vari gironi che comunque il livello si sta alzando ci sono tante squadre ogni anno che puntano comunque alla promozione in cadetteria e il Torino l'anno prossimo vorrà dire la sua per provare appunto ad arrivare in Serie B il prima possibile magari starci qualche anno prima di tentare il grande passo in Serie A che magari arriverà solo con un allargamento del campionato di numero e quando appunto ci sarà una situazione un po' più tranquilla dove si capirà da meno dove può andare anche il calcio femminile col professionismo e tutto il resto insomma questo era un po' il mio punto di vista sul possibile e probabile arrivo del Torino per il prossimo anno nel calcio femminile augurandoci che prendano un esempio anche altri presidenti penso comunque al Napoli di Laurentiis che è ancora solo un settore giovanile penso all'Udinese insomma a Sampdoria che comunque in questo momento ha un buon settore giovanile sta lavorando bene però appunto speriamo prima possibile di vedere anche questa realtà comunque a giocarsela nei grandi campionati grazie